15 agosto finalmente ferragosto ciao a tutte e a tutti eccoci con l'almanacco e l'oroscopo oggi assunzione della vergine maria chi è nato oggi compleanni ben afflecht l'attore regista statunitense 15 agosto 1972 è nata oggi barbara bruschet attrice tedesca naturalizzata italiana 15 agosto 1943 l'oroscopo di questo ferragosto è pronto il proverbio agosto moglie mia non ti conosco ariete stimoli positivi per ampliare gli orizzonti e vivere in libertà un'intensa vita di relazione favoriti i lunghi viaggi gli studi e le iniziative ad ampio respiro qualche incomprensione con la persona amata dovuta a superabili incoerenze toro guardate le cose con maggiore ottimismo si profilano soluzioni soddisfacenti per le vostre aspettative gratificazioni nell'ambito familiare una riunione sarà infatti più divertente del previsto non correte dei rischi economici e valutate meglio la situazione gemelli giornata dinamica e creativa che favorisce i rapporti con l'estero gli spostamenti gli scambi comunicativi con ambienti nuovi troppa aggressività nei rapporti con il partner non esagerate nel mettere alla prova chi vi ama cancro voglia di originalità e di autonomia chi vi circonda può essere disorientato dai vostri atteggiamenti insoliti tenetene conto risolvete un sospeso con il partner chiarendo le vostre intenzioni senza sottointesi bisogno di distensione qualche ora di riposo vi gioverà leone avete bisogno di ricaricarvi facendo il pieno di energie attraverso il contatto con le cose che veramente vi interessano alimentate i contatti con gli ambienti nuovi in amore invece siate più diretti dichiarandovi apertamente vergine marte e venere favorevoli vi rendono intraprendenti e creativi rispettate i vostri ritmi e quelli degli altri se volete che gli scambi effettivi funzionino procuratevi occasioni di svago serviranno ad alleggerire l'atmosfera bilancia organizzatevi una giornata di tutto relax e perciò soprassedete per ora su una decisione economica le idee si chiariranno in seguito in amore dovete cercare di essere più espliciti scorpione mattinata pigra pomeriggio tranquillo serata elettrizzante intensità e appagamento in serata vi aspettano infatti in campo amoroso venere vi sorride e vi regala batti cuore sagittario alcuni problemi vi assillano non prendete decisioni affrettate la via più rapida non è sempre la via più conveniente mercurio regala buone ispirazioni e facilità di rapporti comunicativi qualche amarezza per un torto subito siate al di sopra della meschinità capricorno la grossa concentrazione planetaria nel vostro segno vi regala di certo una straordinaria carica vitale voglia di agire gettandovi in iniziative un po pazze sereno stabile in campo affettivo venere promette incontri giusti acquario giornata fatta di molte intuizioni e grande desiderio di arricchimento interiore stimolato da nuovi interessi dovete cercare di approfondirli in amore rischiate di più se volete fare con queste pianificate invece le spese guardando lontano un pesci bisogno di evadere dalla normale routine lanciando via briglia sciolta verso esperienze ed emozioni nuove cercate di liberarvi da abitudini acquisite ci sono nuove amicizie in vista curate l'alimentazione per una buona forma fisica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti